Ciao da Avsim! Non so se sarà un video molto divertente questo nuovo appuntamento con le scuse degli Allegriani, dopo Juventus-Nant 1-1. Di divertente dopo questa partita c'è ben poco e dobbiamo parlare delle reazioni che non sono molto centrate sulla prestazione, che non sono molto centrate sui reali problemi di questa squadra. Ho selezionato nove tweet che sono esemplificativi di quelle che sono state le reazioni di una parte della tifoseria giuventina, ma sicuramente ci sarebbero stati anche altri esempi da portare. Però appunto sono andato su quelli che mi sono capitati e devo dire che ho voluto anche escludere, a prescindere, volutamente tutto il dibattito moviolistico, tutto il dibattito sull'episodio del rigore in particolare e sulla mancata espulsione di Castelletto. Di questo vi parlo in un altro video che uscirà sul mio secondo canale YouTube, il mio secondo canale Avsimout, lo trovate al primo link in descrizione e lì quindi vi farò la mia moviola parlando degli episodi. Ho voluto escludere tutto il dibattito sui episodi perché, a parte che quindi così ho escluso la gran parte del dibattito, e questo diciamo è già significativo, ma se ci troviamo a parlare di quello non riusciamo a capire qual è la posizione rispetto ad Allegri. Posizione rispetto ad Allegri che non è una posizione personalistica rispetto ad Allegri per quello che è, ma è per quello che fa, è per i suoi contenuti, per le conseguenze del suo lavoro sulla squadra, su quello che si vede sul campo, che poi è la cosa fondamentale. Stiamo parlando di una squadra che quindi deve giocare a calcio e se non gioca a calcio, gioca male a calcio, il problema diventa quello. Chi è l'allenatore? Allegri. Chi è il responsabile se la squadra non gioca bene a calcio? L'allenatore. Soprattutto se poi l'allenatore puntualmente se la prende con i giocatori. Fatemi dire però che dobbiamo rimarcare quello che ho detto e dico da mesi per quanto riguarda Juventus Salernitana, perché questa è la versione europea di Juventus Salernitana sostanzialmente. E cioè che non è possibile recriminare solo per quello, solo per l'episodio. Ci sta a recriminare per l'episodio, ci sta a dire il gol di Milik era buono, il rigore andava concesso, poi però lo devi trasformare. Ma non ci sta a parlare solo di quello, prevalentemente di quello. Perché ci sono stati 95 minuti prima nei quali la Juve non solo non ha raddoppiato, non ha messo in ghiaccio la partita e non si è assicurata il vantaggio netto in questa doppia sfida. Ma si è fatta pure pareggiare e per larghi tratti di secondo tempo la Juve non è stata capace manco di tirare in porta. Non è che stavamo tirando, non è che stavamo facendo chissà che cosa e quindi abbiamo strameritato. La Juve avrebbe meritato di fare un altro gol, consideriamo anche i pali presi da Chiesa per quanto fosse un tiro deviato, quello lì. Ma non c'è stato questo forcing, non c'è stato questo dominio tale da giustificare che ti desse rigore e che poi comunque avresti dovuto trasformare. C'è stata troppa carenza di gioco, carenza soprattutto di gioco offensivo, carenza di organizzazione per l'ennesima volta. Ma di questi aspetti che sono più di campo vi parlo in un altro video che uscirà invece su questo canale, uno spunto, diciamo un approfondimento più tattico su Juventus Nant 1 a 1 anche con qualche grafica. Veniamo allora ai tweet, veniamo al dibattito che si è sviluppato su Twitter. Non ho ancora potuto guardare i vostri commenti, lo farò con calma appena avrò finito di lavorare a tutti i video. Leggerò i vostri commenti che sono stati tantissimi, quindi non so se ci sono stati degli allegheriani sotto il mio commento post partito, non ho fatto in tempo a leggerli, ho anche già riguardato la partita. Quindi capite che soprattutto quando, meno male che giovedì prossimo si gioca alle 18.45, è insostenibile, credetemi. Questi orari sono veramente insostenibili. Si dorme pochissimo, nel mio caso meno di 5 ore, per poi trascrivere tutto, riguardare eccetera. Nonostante questo non sono riuscito a leggere ancora i commenti. Allora vado sui tweet che ho selezionato. Cominciamo con il primo che ho visto, che ha avuto comunque un discreto successo, circa 100 likes. tutti a fare l'analisi dei peli delle parole di Allegri. Un uomo che non si sa come ancora non abbia avuto un esaurimento con tutto quello che sta facendo in questa merda che stiamo passando. Abbiamo subito un altro furto al 95esimo, voi sareste stati tutti lucidissimi, immagino. Ora, qui c'è il richiamo all'episodio e al problema arbitrale, ma di passaggio in un discorso più ampio che celebra Max. che poverino dovrebbe avere un esaurimento, sarebbe naturale che lo avesse. Lui, lui dovrebbe avere l'esaurimento nervoso, non noi. Ci mancherebbe altro. Noi invece siamo serenissimi, certo siamo lucidissimi in tutta questa situazione per come gioca la Juventus. Povero Max, povero Max, povero Max. Non è mica colpa sua se siamo in questa situazione. D'altra parte, lui sta subendo l'analisi dei peli da parte dei tifosi. Non ci fosse questa analisi, sarebbe molto più sereno se si nervosisce colpa dei tifosi. Non magari del fatto che teme di essere cacciato e speriamo che questo accada e che non sa che cosa fare, pur essendo lui l'allenatore e dovendo sapere benissimo invece che cosa fare. Poi abbiamo, il disegno era chiaro in terra Italia, anche in Europa lo stesso. La sensazione è che faranno di tutto per non farci arrivare alla fine in niente. Ceferin ha architettato in maniera impeccabile la vendetta contro la Juve. Spero che A22 Sports faccia partire presto la Super League. Capite? Cioè, speriamo di fare la Super Lega, perché poi così andiamo a fare le figuracce in Super Lega. Abbiamo finito di fare le figuracce in Champions, finiremo di fare le figuracce in Europa League e cominceremo a fare le figuracce in Super Lega. Di questo si parla. E di questo si parla. Appena finita la partita, alle 11, appena finita la partita, è il piano architettato da Ceferin e dalla UEFA per punire la Juventus. Peccato che Francesco Calvo, prima della partita, avesse detto Noi siamo in costante dialogo con i vertici UEFA e siamo tranquilli. Dov'è la verità? Non credo che la verità sia, a prescindere che Ceferin ha architettato nulla, non ha architettato nulla, perché l'arbitro può anche averti impedito di calciare un rigore sacrosanto così che potessi vincere. Ma tu cosa hai fatto per vincere fino a quel momento? Perché eri uno a uno? Cioè se l'arbitro avesse voluto danneggiare la Juventus, significativamente, va bene che doveva espellere Castelletto probabilmente, va bene, ma anche lì non ha espulso un giocatore all'ora di gioco, sull'1-0 tra l'altro, sull'1-0 tra l'altro per la Juve, e dopo il gol subito è colpa della mancata espulsione, e dopo il gol subito, 30 minuti, 35 minuti, chi ha fatto la Juve? È colpa di Ceferin? Cioè siamo arrivati a questo, siamo arrivati al livello di totale disconoscimento della realtà, di offuscamento di ogni prospettiva, e quindi ci concentriamo solo sull'accanimento nei confronti della Juve, su questi piani per abbattere la Juve che altrimenti starebbe volando verso chissà quali mete. Fantastico. Ancora, vedere il mister che poggia le palle in testa a De Grandis non apprezzo, basta subire, finalmente si è incazzato, finalmente si è incazzato Allegri. Finalmente si è incazzato Allegri. No, poi, cioè, quindi Allegri avrebbe vinto il confronto con De Grandis. De Grandis che non ha mai messo in difficoltà Allegri, non è mai stato un anti-Juventino come potrebbe essere definito qualche altro giornalista, era tranquillissimo e lo invidio perché, complimenti, è rimasto tranquillo nonostante Allegri non avesse capito la sua domanda, e non lo avesse fatto, non lo stesse facendo intervenire per precisare che la domanda non era quella. È un Allegri che è andato sparato come un treno sul binario a ribadire il concetto ad autodifendersi, cioè questi sono tifosi che sono contenti perché l'allenatore, invece di ammettere le sue responsabilità, chiedere scusa magari, spiegare perché si è arrivati a questo, quali sono i correttivi da mettere in campo per le prossime partite per evitare che succeda ancora, si incazza per autodifendersi. Quello va bene, per autodifendersi, quindi per difendere se stesso dopo che ha dato e mentre sta dando la colpa ai giocatori per il pareggio. Questa è la soddisfazione oggi del tifoso della Juventus, o almeno di alcuni. Ancora, avete fatto sbroccare Allegri e io come lui avete rotto il cazzo. Chi? Ma chi? Ma chi ha rotto? Ma chi ha rotto? Ma forse Allegri? Forse Allegri, ma chi ha rotto? Cioè, avete fatto sbroccare? Ma chi l'ha fatto sbroccare? Ha sbroccato da solo, ha sbroccato totalmente da solo, totalmente a caso, senza senso, senza, ribadisco, assumersi alcuna responsabilità. Ma di questo si parla, si parla degli episodi, degli episodi arbitrali e dell'episodio Allegri. Ancora un altro tweet, la tristezza più grande che ho questa sera non è dovuta al risultato, ma a quanti leggo su alcuni siti pseudo-juventini che gridano di mandare via tutti, disertare lo stadium, eccetera. Questo non è essere bianconeri, altro che, fino alla fine, io sì, disdette da Zonsky Juventus. Quindi, capite, non possiamo lamentarci, non dobbiamo lamentarci, perché il risultato indubbiamente crea tristezza, ma non è la tristezza più grande il risultato. Pensate, questo sarebbe un risultatista, immagino. Credo sia un risultatista. È un risultatista che dice che il risultato non provoca la tristezza più grande, ma la tristezza più grande è che ci sono pseudo-juventini, così definiti da lui, e chiaramente le patenti di tifo, anche in questo caso, tornano ad essere distribuite in raffica perché vogliono mandare via tutti, disertare lo stadium. Cioè, ma questo a mezzanotte quasi, cioè un'ora dopo una partita del genere, questo in meno di un'ora, quante reazioni, quante cose ha potuto leggere in giro, tanto da farsi il convincimento che ci sono pseudo-juventini che incredibilmente si sono indignati. Ma guarda un po', e questo sarebbe un risultatista? Allora, vogliamo limitarci al risultato, si è pareggiato col Nant, ed è una cosa schifosa. È una cosa inaccettabile. Se è una cosa inaccettabile, si protesta. Se si protesta, si accetta la protesta. Di che stiamo parlando? Invece no, bisogna sempre stare zitti. Se si vince, non si deve parlare, perché questi sono quelli che poi, quando si vince, godono. Quando si vince, godono per il risultato, e mettono al bando ogni discussione, che definiscono magari chiacchiera sul gioco, mentre adesso, che non si è neanche vinto, il pareggio non è neanche il più grande problema, ma sono sempre le critiche. Sono comunque le critiche o il malessere, il malessere spontaneo di tifosi insoddisfatti. Non si può esprimere neanche l'insoddisfazione. Facciamo la disdetta, facciamo così. Un altro che si gasa addirittura Allegri con lanciafiamme. Qui magari potrebbe anche essere uno che, così, non è d'accordo con quello che stava facendo Allegri. Però, capite, si parla di questo. Cioè, appena finita la partita, io non dico che bisogna attaccare Allegri, ma quantomeno essere infastiditi dalla sua reazione su Sky. Quanto meno infastiditi come tifosi. Di stare lì a pretendere delle spiegazioni, senza farsi andare bene il solito elemento di distrazione. Perché questo è il solito, classico, elemento di distrazione prodotto da Allegri. Ce n'è sempre uno. Una volta c'è l'episodio arbitrale, una volta c'è la riscrittura della classifica con più o meno punti autoattribuiti, un'altra volta c'è l'errore del singolo giocatore, e poi la battutina. Adesso c'è stata la lead su Sky, c'è sempre qualcosa. La sentenza, i punti di penalizzazione. Non si parla mai di calcio. Non è mai il momento di parlare di calcio. Mai. Chissà quando lo sarà. Ma lo dico da maggio 2021. Se recuperate il mio video catastrofico, in cui ero proprio, ero un uomo distrutto in quel giorno, per l'annuncio del ritorno di Allegri, io gli dico, adesso torneremo a non parlare più di calcio. Ed è così, progressivamente sempre peggio. E lo vediamo da questi esempi. Ancora, gli ultimi tre tweet. Sono veramente stanco di subire sempre furti. Sempre furti. Sempre. Sono veramente stanco di passare per ladro quando il derubato sono sempre io. Sono veramente stanco di questo calcio corrotto. Sono veramente stanco di tutto e di tutti. Anche dei miei stessi tifosi criticoni. Sto quasi per mollare. E ancora, la reazione è quella. Ci sta a sentirsi defraudati. Perché il rigore andava concesso, era clamoroso, tutto quello che volete. Ma non c'è altro da dire? Non c'è altro da dire. E si parla di calcio corrotto perché? Perché non viene dato un rigore alla Juventus. In generale, poi, per tutto il resto, tutto quello che ha fatto Agnelli. Cioè, il calcio è corrotto. Si dice una cosa grave. Quindi, che il calcio è corrotto perché non viene dato un rigore. Poi il caso della Salernitana, eccetera. Però poi, su Agnelli si è garantisti. Agnelli non ha fatto niente di male. Non ci sono neanche dei danni che lui può aver provocato con la sua gestione, con la sua dirigenza, a prescindere dai processi. Lì, invece, è tutto candore. E i tifosi sono criticoni. Cioè, dopo tutto questo, non si deve criticare. Prendiamocela con la UEFA. Prendiamocela con la UEFA. Questa è la dimensione nuova dello Juventino. Come siamo arrivati a questo? Come siamo arrivati a questo? Me lo chiedo, ve lo chiedo, ce lo chiediamo. Ormai da molto tempo la risposta... Ci sono varie possibili risposte. Non ce n'è una definitiva. È univoca. Ognuno può farsi il proprio convincimento. Ma certo non è una cosa accettabile. Ancora, quelli che criticano sono quelli che quando siamo andati in via hanno guardato altro, non la Juve. Pezzi dei peggio degli anti. Capite, magari questi tweet non hanno avuto grandissima rilevanza, me ne rendo conto. Non hanno fatto tante visualizzazioni, non hanno avuto tante interazioni. Ma purtroppo sono anche questi esempio dell'aria che tira, esempio di quello che si dice. Si dice anche questo. Non si deve criticare ed anzi si va a squalificare chi osa criticare, revocando ogni patente di tifo. Sono tornati quelli della motorizzazione. E sono peggio degli anti. Quello che subisco io poi ogni volta che critico, perché la Juve magari pur vincendo non ha giocato in maniera dignitosa e accettabile. E poi abbiamo voi chiacchierate di niente, io chiacchiero di numeri, ve la raccontate e ve la dite e va incenerito Max Allegri. Cioè io dico davvero, sul serio, ma qui è da psicanalizzare la cosa. Ma come si fa? Come si fa ad essere soddisfatti fino a questo punto con i cuoricini di Max Allegri? Pochi minuti dopo, mezz'ora dopo praticamente, scarsa mezz'ora, venti minuti, dopo quello scempio che si è visto in campo. Cioè per una partita intera, per 95 minuti, si è visto qualcosa di meglio, si sono viste cose positive. Ma comunque non si è vinto contro il Nant. Rischiamo di uscire dall'Europa League senza neanche aver fatto accesso all'Europa League, perché siamo nell'anticamera dell'Europa League con questi playoff. Ma comunque rischiamo di uscire prima di andare agli ottavi. In ogni caso abbiamo fatto una figuraccia, anche se poi dovessimo passare. E qui si gode e si incensa Allegri perché avrebbe incenerito. Ma chi ha incenerito? Ma chi ha incenerito che non ha capito manco la domanda? E lui ha chiacchierato di niente citando numeri a caso infondati, come vi ho detto sul mio secondo canale YouTube Avsimout, sempre link in descrizione, dove oltre alla Moviola trovate già pubblicato il video proprio sull'episodio Allegri De Grandis. E questo è quanto. Questi erano i tweet, ma a prescindere dai tweet che magari possono essere, ripeto, non perfettamente rispondenti a quello che pensa la tifoseria, c'è un problema. C'è un problema di dissociazione, c'è un problema dissociativo rispetto alla realtà. Si deve sempre trovare l'alibi, si deve sempre trovare la scusa. In questo senso Agnelli e Allegri, Allegri e Agnelli, sono stati bravissimi in questi anni a creare questa mentalità. Poi devo ovviamente dire anche che effettivamente tra le reazioni social ci sono state anche tantissime critiche che ho in fronte di Allegri, tantissima insoddisfazione per il gioco espresso dalla squadra, tantissima insoddisfazione a prescindere per il risultato, anche al di là di tutte le polemiche arbitrali che pure ci stanno, ma che ripeto, avrebbero dovuto occupare una parte inferiore, una parte minore, non maggioritaria, minoritaria di tutto il dibattito. Invece occupano le polemiche arbitrali la parte maggioritaria, la parte maggioritaria. E purtroppo è una battaglia persa, è una battaglia persa perché c'è gente irrecuperabile che tra l'altro continua ad essere manipolata da chi non perde occasioni per assolvere automaticamente Allegri e per buttarla, ripeto, in cacciara, tirando in ballo qualunque tipo di alibi, qualunque tipo di scusa e quindi non è facile, anzi è molto molto difficile far aprire gli occhi a quei tifosi che invece si esprimono con aggressività trovando sempre questi alibi. Nel senso che se quando si vince non si deve parlare di calcio e tu hai vinto, cioè se hai vinto avresti del calcio di cui parlare. Ho vinto, guardate come sono stato bravo a vincere. No, hai vinto, non si deve parlare di calcio. Non è che non si deve criticare, non si deve proprio parlare di calcio. Non si deve proprio parlare di calcio. Figuriamoci se si può parlare di calcio quando si è perso, che è ancora più, o non si è vinto, che potrebbe essere ancora più imbarazzante. Visto che non sei riuscito a vincere, potenzialmente hai offerto una prestazione anche peggiore. Questo è il livello, questa è la situazione. Io continuo a battermi su quei concetti lì, ma ogni volta, ogni volta mi pare che la situazione non sia particolarmente cambiata. Cambiamola insieme, facciamo dibattito sul campo, sul calcio e queste erano le scuse degli allegriani prevedibili dopo Juventus Nant 1-1. Grazie per l'attenzione, mettete like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Abbonatevi a partire da soli 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi da questa community e seguitemi, come già detto, anche sul mio secondo canale YouTube, Absim Out. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve! Grazie. 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 Grazie.